Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 9 giugno. Vediamo quali sono i titoli fondamentali della giornata. Oggi una delle cose che più accita i giornalisti sono questi famosi mini bot. Sarebbero dei titoli di Stato particolari con i quali il governo pagherebbe i suoi debiti nei confronti dei creditori. Secondo la Banca d'Italia i debiti del governo italiano, della pubblica amministrazione, nei confronti dei propri creditori che sono l'impresa, ci sono imprese che sono fallite perché lo Stato non gli ha pagato il debito, gli ha pagato quello che le imprese hanno fatto allo Stato. Uno si fida dello Stato, sbaglia perché non pagano. Bene, sarebbero 51 miliardi di euro, una cifra enorme. Ovviamente tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti da anni dicono scusate ma pagateci a 60-90 giorni come è normale che sia, non fate gli strozzini, non ci fate affare a noi da banche. Una delle ipotesi per poter risolvere questo debito è la questione, cioè di pagarli immediatamente non con la cassa ma con della carta, con questi sostanzialmente, questi mini bot che non darebbero interessi ma che sarebbero una forma di pagamento che uno potrebbe rivendersi in un mercato secondario che è da formarsi. Io non sono in grado di dire oggi, non l'ho approfondito a sufficienza, quanto possa essere utile questo strumento. Immagino che se uno ha da pagare i creditori deve pagarli con la moneta con la quale il creditore si aspettava di essere pagato, molto banalmente. Se io mi aspettavo cash, dammi cash, se io mi espressavo un bot, mi dai un bot, ma è difficile che qualcuno si potesse aspettare i bot. Ma non è questo il punto perché ne è diventata una questione politica. Nella questione politica Tri ha detto che è contrario, mentre Salvini e Di Maio si stanno unendo dicendo che invece questa roba qua gli serve ed è cosa buona e giusta. Il pezzo più importante di oggi è di questo giornalista Antonio Gruzzanti della verità. Che cosa dice questo giornalista della verità? Ma fa un lavoro molto semplice ma anche molto complicato nell'epoca di Twitter in cui tutto si perde in una giornata. E cioè dice ma questa invenzione dei mini bot è proprio un'invenzione di Borghi o qualcun altro ci aveva pensato prima? Possibile che sia partorita dal Presidente della Commissione Bilancio? E attenzione, 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 con virgolettati il giornalista della verità si ricorda di quando questa proposta l'aveva fatta Bersani. Avete capito? Bersani l'aveva fatta questa proposta. Cioè aveva detto nel 2013 perché non rimborsiamo con dei titoli di Stato il debito che la pubblica amministrazione ha nei confronti dei privati. E sapete chi aveva dato ragione a Bersani? La Panucci, il direttore generale della Confindustria, la quale Confindustria oggi, con Gai, con Bocce e con tutti gli altri, grida contro questa manovra. Allora io mi dico, cara Confindustria, se eravate a favore ieri di un pagamento con i titoli di Stato, perché siete contrari oggi a un pagamento con i titoli di Stato? Non mi si venga a dire, non mi si venga a dire, beh la proposta di Bersani l'ha ben congegnata. La congegniamo meglio questa, se ci credete, porca puttana. Ma voi avete chiuso, mi ricordo l'intervista di Gai, l'uomo della Confindustria, che ha detto, ex giovane, o non parliamo quella di Rossi, il giovane presidente dei giovani di Confindustria, che dice, Rossi diciamo all'epoca non c'era, ma Gai all'epoca era presidente dei giovani di Confindustria, che dice, beh pagateci anche i parlamentari, pagateci tutti, è una presa per i fondelli, ma non lo era anche la proposta di Bersani nel 2013? E vado oltre, oltre a Bersani, il giornalista della verità, si ricorda che questa proposta, sempre apprezzata da Confindustria, sapete chi l'aveva fatta? L'aveva fatta Passera, ministro del governo Monti. Insomma, temo che purtroppo, come sempre, in Italia Guelfi e Ghibellini ragionano per bande, e non per bontà o meno di un processo decisionale. Detto questo, non mi fa impazzire, se io fossi un creditore della pubblica amministrazione, io non la vedo come aumento del debito pubblico, perché non è ovviamente un aumento del debito pubblico, perché se tu hai un debito di 50 miliardi nei confronti dei tuoi creditori, beh, quel debito ce l'hai da qualche parte scritto, mi immagino, se no sei un bancarottiere. Il tema non è quindi l'aumento del debito pubblico, è il pagamento di un debito. In un paese normale, lo Stato paga i suoi debiti, porca puttana, e c'è un'ideuzza piccola, 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 che vi sottopongo. Io non sono un premio Nobel, non sono nulla di fondamentale. Senza fare tutto sto gran casino, questo enorme casino, sapete quale sarebbe la cosa più semplice? Sarebbe dire, io pubblica amministrazione ti devo un milione di euro, tu mi devi 100.000 euro di tasse quest'anno, non me le dai, quindi andiamo a togliere i 100.000 euro di tasse al milione di euro che io ti devo. E arriviamo a 900, l'anno prossimo me le togli 100, fino a che non riesco a pagarti. Chiaro, compensare questo credito che è commerciale con un debito fiscale che tutti gli imprenditori hanno nei confronti della pubblica amministrazione, come alternativa al pagamento. Sarebbe l'uovo di Colombo, ma sarebbe talmente semplice che quello farebbe sì che ovviamente lo Stato incasserebbe meno soldi. Se incassa meno soldi, fa meno spesa pubblica di merda che noi non vorremmo che si facesse. Eppure dalla Lega, al Movimento 5 Stelle, a tutti i partiti, la Lega alla spesa pubblica gli piace molto perché è consenso. Va bene? Oggi intervistata la leader dei Verdi, Anna Lena Baerbock, dalla Corriere della Sera e dicono l'onda verde, lei e anche mi sembra l'onda verde è sul fatto quotidiano. Allora, siccome i Verdi sono andati bene in Germania, sono andati bene in Olanda e in Finlandia e in Francia, si dice che c'è l'onda verde, ma i nazionalisti e i sovranisti hanno perso. Segnalo che in Germania e in Francia sono il primo partito, che l'Olanda varrà forse l'Ungheria. Forse sì, non so per quale motivo dobbiamo essere così con la puzza sotto al naso su Polonia e Ungheria dove ci sono due sovranisti rispetto alla scicchissima Olanda. La Finlandia, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Beh, insomma, forse potrà valere la vittoria, per esempio, di Salvini in Italia. Allora, è fantastica come l'onda verde è buona, è cosa fantastica e giusta, mentre questi Verdi sono degli pseudo-marxisti, mentre l'onda sovranista, che non è marxista, non piace e fa orrore a tutti i giornaloni. Ovviamente Ken, il Rosso, o come lo chiamate voi, il sindaco di Londra, siccome ha criticato dando del fascista Trump, allora oggi si merita una bella pagina dicendo lo straordinario sindaco di Londra sul Corriere della Sera. Che fine hanno fatto le sindache di Barcellona? Vi ricordate quelle sindache progressiste che volevano gli immigrati? Non lo so, bisognerebbe vedere. Sala, sindaco progressista che ha cambiato un po' idea, perché adesso leggo sul Corriere di oggi che vuole il Daspo, cioè una misura del decreto di sicurezza sia di Minniti ma inasprita da Salvini, per i Rom non integrati, i Rom abusivi. Questo dice Sala! Insomma, metto insieme questa notizia di Sala che vuole il Daspo per i Rom abusivi con un'altra notizia del fatto. e dice il fatto, vuole fare un partito personale con un'area ambientalista proprio l'attuale sindaco di Milano, Sala, che sta facendo bene, perché Milano forse è più facile gestire che altre città, ma non sta facendo male. Questo taglio anti-Rom mi fa pensare che Sala stia davvero pensando a farsi un partito per la prima volta. Fantastico l'incontro tra Di Maio e Grillo, che si è visto con quel delinquente di Grillo, un criminale. Grillo è chiaramente un delinquente, è un uomo che ha ucciso una persona, non ha corrotto, non ha fatto un abuso d'ufficio, ha ucciso una persona. L'omicida a Grillo si vede con Di Maio, che è molto meglio di Grillo, e pare, secondo le indiscrezioni dei giornali, che abbia chiesto due cose. La stampa dice che ha chiesto Di Maio a Grillo di tenere a bada il suo amichetto Fico, che è molto più vicino a Grillo che a Di Maio, perché Grillo è un comunista, è chiaro un marxista, ha una posizione molto più di sinistra di quella di Di Maio, esattamente quella di Fico. E l'altra straordinaria genialata che sarebbero fatte avrebbero deciso di ricandidare quell'altro fenomeno che si chiama raggi. Bello il pezzo oggi di Minenna, un esponente grillino, un professore, ma in realtà un sindacalista della Consob. Minenna oggi fa un dato sul Sole 24 ore, una serie di numeri riguardo al quanto è diminuito il costo del debito pubblico nei paesi europei. Calcolate che è un grillino questo, non è un professore montiano. I titoli a 10 anni greci sono diminuiti di 150 punti base, un punto e mezzo dall'inizio dell'anno, quelli spagnoli di 80 punti base, i francesi di 55 punti base, il Bund tedesco è sceso di 40 punti base, il BTP italiano, sapete di quanto è sceso? Di 20 punti base. Cioè tutti i paesi europei hanno visto il costo del loro debito diminuire, addirittura la Francia del doppio nostro, la Grecia di 10 volte noi e noi in meno di tutti. Questo è colpa di questo governo? Non lo so. Comunque una cosa c'è ed è certa e c'è che se noi paghiamo troppo il nostro debito abbiamo meno soldi per fare cose più utili. Questo è un'analisi che faceva oggi Minenna sulla prima pagina del Sole 24 ore. Maurizio Caprara intervista alla Rossanda e in realtà questa non è un'intervista. Dobbiamo liberare la Rossanda, 90enne, non so cosa sia, mi sembra un 90enne, dal suo giovane allievo, 60enne, del Corriere della Sera che fa un'intervista di due pagine in cui non si dice assolutamente nulla, si celebra quella merda che è il comunismo di quegli anni orrendi degli anni 70 che non vedo perché debba essere celebrato. L'unica cosa che serve probabilmente queste 200 inutili righe della pagina domenicale del Corriere della Sera è dire che Caprara lavorava al manifesto con la Rossanda. Mal per lui, forse quella non è stata una grande scuola come possiamo dire di indipendenza giornalistica, è stata una grande scuola di comunisti che ancora purtroppo oggi in Borghesiti ci troviamo un po' dappertutto nei gangli della cultura italiana. Per gli appassionati insomma vi sconsiglio questa leggere. Certo poi dopo tutti leggono oggi la prima pagina di Repubblica e il cui titolo della prima pagina di Repubblica è Non dividiamo i cattolici dal Papa. Un titolo fulminante ma la cosa straordinaria è che Repubblica, il giornale laico, il giornale di sinistra, il giornale azionista, il giornale di Scalfari, il giornale insomma dei pensatori che non avevano simpatia nella democrazia cristiana bacchettona degli anni 70. Bene, dedica oggi ma non solo da oggi le prime pagine del giornale al Presidente dei Vescovi Italiani che ce l'ha ovviamente con Salvini e con Di Maio e soprattutto con Salvini perché esibisce il crocefisso. Oggi quindi viene presa un'intervista a Bassetti, cosa fantastica, legittima ovviamente che non c'è neanche sul nuovo manifesto sull'avvenire e viene data l'apertura di Repubblica all'intervista al Cardinalone che ce l'ha con Salvini. Ovviamente tutto fa gioco, c'è anche un'intervista a Boccia Boccia che attacca Salvini e che non ha ovviamente la prima pagina del giornale ma ce l'ha il Cardinalone. Doris si fa intervistare dal grande nemico di Mediaset Ettore Livini e ci spiega sulla Repubblica per quale motivo la scelta di Mediaset di andare in Olanda pagando le tasse in Italia e mantenendo quotate le sue società se in Italia e se in Spagna, quella scelta di Mediaset è una scelta industriale. Porro non conosce la storia del manifesto, mi dice qualcuno, sì la storia del manifesto sarà una storia straordinaria, adesso mi interrompere anche le balle per quando i ragazzi a manifesto furono cacciati per le invasioni che loro non sopportavano. A me il manifesto e quella cultura là mi fa orrore. I Cardinali che sono contro la Serminiera è una prassi del giorno e dobbiamo essere i migliori a proporre un salvataggio dell'Italia, l'altro giorno in Portogallo è diventato il primo paese della zona ora per mettere il debito in one. Tante notizie da tutti voi, vi ricordo che domani c'è Quarta Repubblica e come sempre questo pomeriggio troverete il pezzo di Bisignani, retroscena della politica sul sito nicolaporro.it e domani Daniele Capezzone, ma tante tante altre cose. Chi scrive viva la raggi, allora viva spazzatura, viva le buche, beh c'è qualcuno che scrive viva la raggi, veramente io non so come si possa. Un abbraccio a tutti quanti voi, buona domenica.